Accusato di lesioni alla compagna incinta al via il processo per un quarantenne. Fiera di San Michele all'ex foro Boario, il punto della situazione, intervento di Grazia Giammusso, vice sindaco di Caltanissetta. Caltanissetta, l'impegno del gruppo accoglienza famiglie per i rifugiati. Antologia Reporter, giovedì sera la sedia di Don Sturzo, memorie storiche. Appuntamento alle ore 21. Scatta l'ora del processo per un uomo di 42 anni di Casteltermini accusato di maltrattamenti e lesioni aggravate nei confronti della compagna. Secondo l'accusa l'imputato per diversi mesi avrebbe colpito la donna con calci, pugni e schiaffi, oltre ad insultarla, non fermandosi nemmeno davanti al fatto che la donna fosse in gravidanza. Una volta raccolti gli atti, la procura ha chiesto il giudizio immediato, ritenendo di avere elementi sufficienti per andare in aula senza passare dal filtro dell'udienza preliminare e il GIP di Agrigento ha accolto la richiesta. Vessazioni ripetute nel tempo, quelle che sempre secondo l'accusa l'imputato avrebbe messo in atto, non risparmiando nemmeno insulti al nascituro. In tutto questo, in base alle risultanze investigative, la donna sarebbe stata anche costretta a non uscire dalla propria abitazione. Il 25 maggio dell'anno scorso la situazione aveva raggiunto il picco. In base alla tesi degli inquirenti, nel corso di un litigio, l'imputato aveva aggredito la moglie con calci e pugni, afferrandola per i capelli e facendola cadere a terra. Non contento, sempre secondo l'accusa, aveva anche cercato di scaraventarla dalle scale, fermandosi solo davanti alla supplica della donna che temeva di perdere il bambino. Particolari emersi dopo la denuncia della persona offesa, la quale a seguito dell'aggressione dovette ricorrere anche alle cure dei medici in ospedali, visto che aveva riportato un trauma cranico, dei graffi alla schiena e accusava anche dei dolori. La prognosi era stata di 15 giorni. Pena ridotta a tre anni in appello per un uomo residente in un paese della provincia Nissena, che era stato accusato di violenza sessuale sulla ex moglie e di avere commesso i presunti abusi anche davanti ai figli minorenni, oltre che di maltrattamenti e stalking. La corte d'appello lo ha assolto dall'accusa di violenza sessuale, condannandolo però per stalking e maltrattamenti. Sconto di pena anche per la sorella dell'uomo, che è stata condannata a sua volta a un anno per stalking, ma assolta dal reato di induzione a commettere reato, in quanto, secondo l'accusa originaria, la donna aveva esercitato pressioni sulla persona offese in modo che non denunciasse il fratello. In primo grado, l'uomo era stato condannato a sei anni, mentre la sorella a un anno e sei mesi. I fatti risalgono al 2019. La persona offesa, parte civile con l'avvocato Salvatore Virciglio, aveva denunciato di essere stata maltrattata per diversi anni dall'ex consorte, il quale, sempre secondo l'accusa, era arrivato ad abusare di lei anche davanti ai figli minorenni. L'uomo sospettava anche che la ex moglie la tradisse e insieme alla sorella l'avrebbe quindi seguita dappertutto e in un'occasione l'avevano anche sorpresa con un'altra persona. In ogni caso, la persona offesa aveva deciso comunque di denunciare le presunte violenze e le persecuzioni subite, oltre ai tentativi dell'allora cognata di convincerla a non rivelare nulla agli inquirenti. La procura generale aveva chiesto la conferma della sentenza di primo grado, mentre l'avvocato difensore Giuseppe D'Aqui aveva chiesto la soluzione sostenendo l'assenza di elementi alla base dell'accusa, in particolare riguardo alla violenza sessuale, visto che i figli minorenni della coppia avevano affermato di non avere assistito a episodi del genere. 60 cassette di frutta e verdura sono state sequestrate questa mattina a diversi venditori ambulanti abusivi in tutta la città, i quali, stando a quanto accertato nel corso dei controlli, non avevano la licenza di vendita e avevano collocato senza autorizzazione i loro banchi di vendita. Questo è il bilancio di una serie di controlli a tappeto messi in atto dalla Polizia di Stato, dalla Guardia di Finanza e dalla Polizia Municipale. La merce sequestrata verrà devoluta in beneficenza. Un'attività che segue a stretto giro quella operata la scorsa settimana dalla Polizia Amministrativa. I controlli sono stati disposti dalla Prefettura per contrastare l'abusivismo commerciale. Gli investigatori hanno infatto sottolineato come l'abusivismo commerciale e la contraffazione dei prodotti finiscano per danneggiare gli imprenditori e i commercianti che lavorano in maniera regolare, andando a distorcere le regole che disciplinano il libero mercato. I controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni. Via Luigi Monaco, Via Le della Regione, Via Rosso di San Secondo, Via Calabria, Via Catania, Piazza Europa, Via Retusa, Via Salemi, Via Mandelena Calafato, Via Redentore, Via Le Trieste, Via Messina, sono alcune delle strade cittadine che saranno interessate dai lavori di pulizia delle caditoie e tombini. Un annuncio che lo stesso assessore al ramo, Marcello Frangiamone, fa attraverso i social e che conferma i nostri microfoni. Si tratta di un intervento cominciato a inizio settimana, necessario proprio in vista delle piogge autunnali. I lavori sono già partiti, sono iniziati a partire appunto da lunedì e si protrarranno nei giorni a seguire. Sostanzialmente l'azienda che si occuperà appunto della pulizia dei tombini e delle caditoie lavorerà durante la notte al fine di non intralciare il traffico e non creare problematiche appunto alle attività giornaliere. Le aree che sono interessate sono interessate all'incirca 800 tra caditoie e tombini che sono quelli che appunto l'ufficio ha individuato che sono i più importanti da sistemare proprio per fare in modo che si possano eliminare i rischi di alluvioni o inondazioni che purtroppo ormai con questo clima particolarmente impazzito che determina bombe d'acqua improvvise con concentrazione di quantità d'acqua in poco tempo ormai mette a dura prova tutte le vie di deflusso delle acque. Pur non di meno appunto i lavori già sono partiti e si avvieranno e si concluderanno nei giorni a seguire con la pulizia di tutti i tombini interessati. Diverse le criticità riscontrate anche dagli stessi cittadini in alcune zone come ad esempio via in centro storico. Diciamo che ci sono alcune vie che saranno trattate in modo prioritario perché sono più critiche poi evidentemente saranno anche interessati i tombini che sono presenti i tombini soprattutto le caditoie che sono presenti anche in centro storico e anche in altre vie che appunto non sono state diciamo segnalate in questa prima in questa prima tranche. Il maltempo che si è abbattuto sull'inizio della fiera di San Michele che ha causato un inizio in sordina, lamentele e eronie social sembra essere rientrato nei ranchi. Ne parliamo con il vice sindaco Grazia Gianmusso, il presidente della quinta commissione consigliare Gianluca Bruzzaniti e il presidente della CIDE che è responsabile Luna Park. Siamo su un'esposizione di 18 mila metri quadrati, finalmente dopo circa vent'anni si riuniscono insieme il Luna Park e la fiera. Questo è stato voluto fortemente da tutte le associazioni di categoria che hanno voluto riprendere questa antica tradizione nel lavorare tutto insieme. Quindi abbiamo una parte di food all'esterno, è ben organizzata e all'interno abbiamo il Luna Park e abbiamo le bancarelle. Insieme abbiamo portato avanti tutte quelle che sono state le esigenze da soddisfare con gli operatori e quindi oggi abbiamo una bella passeggiata da venire a percorrere con una strada anche asfaltata, quindi noi ci riteniamo soddisfatti. C'è un bus e navetta come c'è sempre stato, questa non è una novità perché la fiera di San Michele è stata sempre servita appunto dalle bus e navette. Ci sono i vigili urbani che costantemente presidiano la zona, abbiamo i vigili del fuoco che sono sempre qui in costante servizio per garantire la sicurezza, quindi abbiamo una fiera in un unico spazio espositivo, una fiera sorvegliata, vigilata e soprattutto abbiamo delle giostre funzionanti già da ieri sera, abbiamo avuto a che fare con il maltempo e purtroppo contro quello non possiamo fare tanto. Purtroppo c'è stata una pioggia battente qualche giorno fa che ha causato qualche disguido, prontamente l'ufficio tecnico è intervenuto, devo dire che sia l'assessore Gianmusso che l'ingegnere Tomasella sono stati quotidianamente presenti presso il foro buario cercando di mettere in campo tutti gli accorgimenti necessari. Io ritengo invece che il sito è il sito migliore per la realizzazione dell'evento fieristico e sono convinto che per il futuro tante migliorie potrebbero essere apportate affinché la fiera di San Michele torni ad essere in qualche modo quella di una volta. Ho letto che le persone non erano tanto favorevoli a venire in fiera perché giustamente di quello che uno vede pensa di venire qua con gli stivali, ho letto di venire con i passeggini cingolati, ne ho letto di tutti i colori. Io volevo dire che non è vero così perché la fiera era un pochettino di disagio, l'abbiamo avuto noi operatori, però noi abbiamo voluto provare con il comune perché non avendo altre aree di provarla questa fiera, dargli fiducia all'amministrazione comunale. Abbiamo avuto qualche disagio che loro ci hanno cercato di risolverlo, però ripeto per la popolazione invece non è così perché per la popolazione il comune ha spaltato tutto il punto dove passeranno le persone, perciò le persone con i passeggini, con chi è vincita con i tacchi, può passeggiare tranquillamente perché c'è l'asfalto nuovo. Come primo giorno ieri sera l'afflusso di persone c'era, anzi abbiamo lavoricchiato onestamente e sperando che tutta la settimana sia così. Alle 15 scendono in campo Cittanova e San Cataldese per la seconda giornata del campionato di Serie D. Per i Verdi Amaranto il primo impegno in trasferta della stagione contro una squadra giovane che punta alla salvezza ma da non sottovalutare. Una partita tutt'altro che facile dunque per Maltese e compagni che puntano al risultato pieno per riscattare la sconfitta subita alla prima di campionato contro il Sant'Agata. Così Angelo Galfano, il tecnico del Cittanova, in prossimità del match con la San Cataldese sulla pagina Facebook della società Calabra. Conosco bene la San Cataldese, è una squadra di categorie, è una squadra con giocatori importanti. Ricordiamoci che in Coppa Italia ha fermato il Catania, quindi bisogna sicuramente fare una grande prestazione e provare a vincere. Noi abbiamo molto rispetto della San Cataldese così come di tutte le squadre che incontriamo e dovremmo cercare, come ho detto prima, di fare una prestazione sicuramente migliore di quelle che abbiamo fatto ultimamente perché abbiamo le possibilità di farle, abbiamo lavorato abbastanza bene, quindi mi aspetto proprio dai ragazzi una grande prestazione. Alle 15.30 fischio d'inizio di Nissa Acragas al campo sportivo Palmintelli di Viale della Regione per l'andata degli ottavi di finale fase regionale di Coppa Italia. La gara di ritorno è prevista il 12 ottobre all'esseneto di Agrigento. Intanto i tifosi attendono di conoscere il nome del nuovo allenatore dopo l'esonero di Alessandro Settineri. Sul fronte Agrigentino massima concentrazione in vista della partita. Parla il tecnico dell'Acragas Nicola Terranova sulla pagina Facebook del club Biancazzurro. Una gara difficile, una gara contro un avversario ferito nell'orgoglio. È chiaro che non dobbiamo fare l'errore di pensare di trovare un avversario sgonfio, un avversario senza motivazione perché penso proprio sia al contrario, anche perché ci saranno giocatori che vorranno dimostrare di meritare la piazza, di meritare la maglia. Ripeto, reputo la Nissa una squadra con delle buone individualità, poi se di collettivo devono migliorare questo è un altro discorso, però se ti devi salvare non prendi Di Biase, Ortiz, Lucero e tanti altri. Rimango nella mia opinione, sappiamo di affrontare un avversario difficile su un campo non al meglio, però sono convinto che chi sa giocare a calcio lo sa fare in tutte le superfici. Abbiamo preparato la partita come al solito nei minimi dettagli. Mentalmente stiamo bene, dobbiamo confermare le nostre qualità, cercare di migliorare la fase conclusiva che forse è l'unica pecca che abbiamo fino a questo momento. Amici Trebi Meteo, bentornati a questo aggiornamento delle nostre previsioni per la giornata di mercoledì che vedrà ancora l'Italia influenzata da correnti umide occidentali che portano maltempo soprattutto sul versante tirrenico. La pressione atmosferica resta bassa, però in molte zone di tagli in realtà non mancheranno ampie schierite. Controlliamo infatti la nuvolosità attesa sul nostro paese e sì, un po' di nuvele continueranno a transitare, ma la nuvolosità un pochino più insistente interesserà le regioni tirreniche dove impattano questi venti di libeccio. In effetti anche come precipitazioni qualche piovasco, qualche acquazzone e forse anche qualche temporale potrà interessare le regioni tirreniche, compresa la Sardegna e poi un pochino di instabilità anche all'estremo nord-est. Nel resto del paese invece come vi dicevo non mancheranno anche ampie schierite e quindi in definitiva ci attendo mercoledì che ancora diciamo sarà a tratti nuvoloso su Toscana, Lazio, Campania, Calabria Tirrenica, in Sardegna, in queste zone vi dicevo sarà possibile anche qualche acquazzone e forse qualche temporale, attenzione anche al vento che soffierà sostenuto. Invece nel resto d'Italia è situazione buona con un po' di variabilità solo sulla fascia alpina specie, le cime di confine e poi all'estremo nord-est in Friuli Venezia e Giulia dove tra il tardo pomeriggio e la sera arriverà anche qualche temporale. Per sapere però nel dettaglio come andranno le cose proprio da voi consultate l'app gratuita di Trebi Meteo.